Buongiorno, avremo un bilancio europeo all'altezza delle nostre ambizioni o almeno al livello delle politiche in corso? E poi come si sta comportando l'Europa nella crisi del Mali e nei paesi del Nord Africa? C'è un rischio che l'Africa diventi con la complicità europea un Afri-Ghanistan senza controllo. Benvenuti a questa puntata di Sette Giorni in Europa qui con me oggi per decifrare la tua età della settimana Niccolò Rinaldi, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è il capo delegazione dell'Italia dei Valori, eletto nelle fila dei democratici e liberali e con lei appunto parleremo di questi grossi temi che sono sul tavolo. Ma prima di tutto, come per ogni nostro ospite, la sottoponiamo al nostro minuto di domande secche a cui lei potrà rispondere solo sì o no. È pronto? Ma certo. E via, partiamo. Allora, secondo lei si troverà un accordo sul bilancio europeo tra una settimana? No. No. Le è piaciuto il discorso di Cameron sull'Europa? No. No. È giusto rispondere alle richieste britanniche con questa minaccia di un referendum se non si tratta? No. No. In Mali con la riconquista di Tombouctou la guerra è finita? No. No. È preoccupato per il Mali? Un poco. Un po'. In Africa del Nord, Egitto, Tunisia, le cose vanno bene? Sì e no. Sì e no. L'Europa ha capito quello che sta succedendo nel Nord Africa? Gioca un suo ruolo? Sì e no. Sì e no. Poi ce lo spiega. Nel suo sito lei pubblica il rendiconto di spesa dei soldi che le dà il gruppo. Secondo lei è da lì, da più trasparenza che bisogna ripartire per fare politica? Anche. Anche. Anche, diciamo, lo dovrebbero fare tutti, anche tutti i suoi colleghi di partito in Italia? Sì, certo. Non basta quello, ma intanto. Le piace il fiscal compact? Sì. Sì. Ma non basta. Matrimoni gay, sì? Sì. In Italia ci arriveremo? Sì. Sì. Bene, il tempo è scaduto. Non so tra quanto. Non so tra quanto. Bene, abbiamo un po' svicolato, ma la tentazione, come dire, era grossa, era un liberale di chiedere, visto che se ne parla anche in questa campagna elettorale. Non molto, ma se ne parla in Italia. Allora, io direi di partire prima di tutto, lei è un grande esperto di relazioni esterne e conosce bene l'Africa, ha anche lavorato in Afghanistan. L'Economist ha pubblicato questa settimana la sua copertina dicendo Afriganistan. Secondo lei c'è un rischio che nel Mali, adesso che diciamo la guerra d'assalto è finita, che appunto intanto questo conflitto si trasformi in piccole guerriglie, attentate, che quindi si perde il controllo. E che ne pensa di questa crisi? Il Mali è un territorio vastissimo e difficilissimo da controllare interamente dal punto di vista militare. Detto questo, l'Afghanistan è unico come paese, anche proprio come dinamiche culturali, oltre che militari e anche geografiche. Per cui è facile, direi che è più uno slogan questo dell'Afghanistan che non una reale minaccia. Ogni crisi di fatto è diversa dalle altre. Credo che quello che stia accadendo in Mali sia anche una crisi per certi aspetti europea. Ci chiediamo, dopo la firma del Trattato di Lisbona, tutta l'enfasi su una politica estera comune, a che punto siamo arrivati. Qui abbiamo un'iniziativa che di fatto è bilaterale di un solo paese che è partito con qualche aiuto logistico. La Francia è quella che dovrebbe essere una macchina europea di politica estera e anche di difesa europea, è rimasta completamente al palo. La guerra contro i santuari del terrorismo io credo che sia necessaria. Combattere coloro che distruggono i beni culturali, il patrimonio letterario, artistico. Sì, perché a Timbuktu prima di partire hanno distrutto questa biblioteca storica. Sì, che era una cosa importantissima. Questo è un danno per l'umanità. Sembra una stupidaggine, ma in realtà soprattutto Timbuktu è stata una grande capitale nel 1200, nel 1300 e nel 1400 ancora. Un po' come hanno fatto scusi i talibani in Afghanistan. Assolutamente. La deviazione culturale da parte degli islamisti e fondamentalisti è quella. Però penso che sarebbe stato meglio avere un, non meglio, indispensabile avere un mandato delle Nazioni Unite, che non c'è stato, e una posizione da parte dell'Unione Europea in quanto tale, che non c'è stato. Detto questo, non è l'Afghanistan una volta che i chedaisti sono stati estromessi dalle città e sono costretti a rifugiarsi nelle caverne del deserto, perché poi di questo si tratta nel nord del Mali. Devo dire che, sì, certo, non hai un controllo del territorio completo, ma la minaccia è assolutamente minore. Nel deserto non si coltiva oppio e non si fa commercio di droga come si può fare in Afghanistan. Quindi dovrebbe essere più facile isolare questi gruppetti. Passeremo tra pochissimo all'attualità la settimana prossima. Vorrei parlare di bilancio, ma non posso perdere l'occasione che lei sia qua per chiederle come stanno andando le cose, la primavera araba, le cose vanno avanti come ci si aspettava o c'è un'involuzione, penso all'Egitto, penso alla Costituzione, al trattamento delle donne in Tunisia, che insomma un po' dispiacciono e che bisogna sorvegliare di più. C'è un passo indietro, ma questo era da aspettarsi. Vanno come sono sempre andate le rivoluzioni anche in Europa, ci sono due passi in avanti e un passo e mezzo indietro, quindi quelle che possono essere delle misure apparentemente di involuzione sono in realtà un fattore fisiologico. Ricordiamoci che l'Europa ha fatto molto poco per accompagnare tutto questo processo di democratizzazione, quindi poi non è che ci possiamo lamentare che ci sono dei rigurgiti dittatoriali o comunque di autoritari. Allora, guardiamo insieme il resto dell'attualità, soprattutto cosa succederà a Strasburgo la settimana prossima, ce lo racconta Caroline Grasso. Dei presidenti dans l'hémicycle la settimana prossima a Strasburgo. François Hollande dovrebbe se rendere al Parlement europeo il 5 février, una prima dopo son investiture in quanto presidente della Repubblica Francaise. Il dovrebbe prononcer un discours sur l'avenir dell'Unione europea devant gli eurodéputi. Autre visiteur di Oran, il chef dell'Etat tunisiano, Monsef Marzouki, prononcera una allocuzione solennale il 6 février. Depi la chute del regime di Ben Ali, il y a 2 anni, la Tunisie connaît una transition démocratique ancora fragilisée par una situazione economica e sicurità precaire. De combien d'argent disposera l'Europe per la periodo 2014-2020? A la veille d'un sommet europeo decisivo quant al futuro budget dell'Unione europea, les eurodéputi vont monter au crénello lors d'un débat mercredi prochain. La dernière proposition discutita en novembre dernier s'èlevait a 973 milliards d'euros pour la période. Les députés menacent de ne pas voter le budget annuel si de nouvelles coupes demandées par certains Etats se confirment. L'avenir de la pêche en Europe, ce sera l'autre grand moment de la session plénière. Alors que de nombreuses régions européennes vivant de la pêche font face à une situation économique et sociale critique, il est urgent de réformer la politique commune de la pêche. Jusqu'à présent, les mesures n'allaient pas assez loin. Objectif des eurodéputés, mettre fin à la surpêche et favoriser des pratiques durables et performantes. Restera ensuite à convaincre les Etats membres. Torniamo in studio. Allora, la settimana prossima ci sarà un Consiglio europeo importante. Intanto a Strasburgo riceverete il presidente Franceso Oland. E quello tunisino. E quello tunisino. È molto importante. Però volevo parlare un attimino di questo tema che è sospeso di quanti soldi avremo a partire dal 2014 e come gestiremo le politiche europee. Lei come la vede? Che avremo sicuramente pochi soldi. Che se gli Stati Uniti d'America hanno un bilancio federale che è pari al 23% del loro PIL è uno scandalo che noi si stia difendendo con i denti proprio. Un bilancio, diciamo, federale, europeo che è pari a poco più, appena più dell'1%. E quindi secondo lei se il compromesso, se ci sarà, non sarà all'altezza il Parlamento dovrebbe, e magari lo farà, bloccare poi il bilancio 2013 perché ha un potere il Parlamento di rigettare poi il bilancio annuale? Sì, io penso che noi dovremmo comunque insistere in una politica forte per quanto riguarda il bilancio. Sono contento che il Parlamento fino adesso è riuscito a mantenere l'unica istituzione tra quelle europee, una posizione che ha una visione di quello che dobbiamo fare in Europa. Niccolò Rinaldi, grazie e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.